Tutti insieme preghiamo per gli ammalati, per le persone che soffrono, sotto la tua protezione cerchiamo un rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Ringrazio a tutti i cristiani, a tutti gli uomini e donne di buona volontà che pregano per questo momento, tutti uniti, qualsiasi tradizione religiosa alla quale appartengono. Grazie a tutti.